Il governo Draghi, Forza Italia e l'Umbria. È stato questo il titolo della videoconferenza stampa organizzata da Forza Italia che ha visto la partecipazione delle senatrici Alessandra Gallone, Fiammetta Modena e delle coordinatori regionali Andrea Romizzi. Il tema centrale è stato il PNRR e le grandi opportunità che porta con sé per quanto riguarda il rilancio del cuore verde d'Italia. Noi sappiamo che l'Umbria è stata per troppo tempo trascurata e trasformata in una cenerentola d'Italia, ha detto la senatrice Gallone. Poche risorse e mal distribuite, spesso ricevute, in funzione di una ricostruzione post-sisma mai partita e quindi adesso è tempo di cambiare. Adesso non è più un problema di risorse, non è più un problema di soldi. Esiste un piano nazionale di ripresa e resilienza che ha portato alla nostra nazione una montagna in teoria di risorse. Il PNRR non è un regalo ma una responsabilità. Aggiunto Romizzi, il nostro paese deve avere la capacità di cogliere un'occasione che non credo capiterà alle prossime generazioni. Il PNRR porta con sé non solo queste risorse, queste opportunità, ma porta anche con sé, l'Europa ce lo chiede, la necessità di procedere con riforme strutturali e con una effettiva semplificazione, oltre che la necessità di investire tantissimo sul capitale umano. La senatrice Modena ha poi illustrato i principali progetti che coinvolgeranno l'Umbria nel 2022 e che hanno scadenze fissate per i mesi di febbraio e marzo. A partire dalla scuola con 27 milioni destinati alla costruzione di nuove scuole, mediante la sostituzione di edifici e oltre 11 milioni per gli asili nido e per le scuole dell'infanzia. Per quanto riguarda invece la rigenerazione culturale dei borghi storici, è stato stanziato un miliardo a livello nazionale e anche in questo settore, ha sottolineato Modena, l'Umbria ha un'altra grande opportunità di crescita. Infine, i progetti sulla sanità, che riguardano le case comunità ed il rafforzamento e l'ammodernamento tecnologico degli ospedali.